ciao carissimi oggi andiamo a preparare insieme a samuel jennifer e a gioacchino gli spiedini di maiale con verdure sono buonissimi soprattutto super estivi potete preparare un buonissimo barbecue in pochissimo tempo oppure li potete fare alla griglia possono essere anche preparati per esempio la mattina per la sera si consiglia di non congelarli se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi preparate spiedini intanto tagliate le zucchine ok e poi facciamo i peperoni e gialli e rossi giusto si in due pezzi ma così grandi vanno bene un po più piccoli geni ritagliate a metà no aspetta è ok vai qui ok poi brava geni che lavoro ragazzi squadra guarda gioacchino così va bene perfetto ok questa è carne di maiale di suino maiale e questi sui pezzettini di peperoni e lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu e scusa per l'ansia ma non sono bravo a fare il ventare chi mi vuole bene però so aspettare e il cotter mi sa che lo farò chi mi spiega come si fa si mette metti qua così ce lo fai vedere qua qua metti qua allora ci si mette un ordine cioè ci si mette un ordine tipo un spiedino è peperone carne zucchina una volta fatto solo una sequenza solo una sequenza si continua per tutto lo spiedino con quella sequenza cioè adesso peperone carne zucchina si ricomincia peperone carne zucchina peperone carne zucchina peperone carne zucchina fino a che non si arriva alla fine del bastoncino si lascia un po di spazio giusto tra come avete fatto qua così si cuociono bene il trucchetto il segreto di questi spiedini come ci ha spiegato gioacchino che appunto ha fatto il corso di cucina è che vanno sia la carne che le verdure fatti a pezzetti piccoli come avete visto e così si cuociono in maniera uniforme avete visto che meraviglia non sono riuscita a fare il video della di dopo averli cotti sul sulla griglia perché sono andati a ruba immediatamente se il video vi è piaciuto lasciateci un like un commento se vi fa piacere se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video ci trovate anche su instagram sempre con il nome a casa di abicio ciao ciao